Sessantasettesimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda Santa Felicita. L'onomastico. Oggi l'onomastico di Felicita. Il nome deriva dal latino e significa fortuna. È un nome augurale, diffuso soprattutto nel nord Italia. Accadde oggi. Il 7 marzo del 1933 nasce il Monopoli, che diventerà il gioco da tavolo più diffuso al mondo. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 7 marzo ricordiamo lo scrittore Alessandro Manzoni e l'attrice Anna Magnani. La citazione del giorno. Non si è mai troppo vecchi finché si desidera sedurre e soprattutto finché si desidera essere sedotti. Charles Baudelaire. Dice il saggio. Diventare vecchi è obbligatorio, crescere è opzionale. Il bel paese. Su un'isoletta del lago Fusaro, nel comune di Bacoli, nell'area metropolitana di Napoli, sorge la Casina Van Vitelliana, un casino di caccia borbonico raggiungibile tramite un pontile di legno. La casina rappresenta una delle più raffinate produzioni architettoniche settecentesche e ha ospitato personaggi illustri, come Mozart e Joachim Rossini. Da molti è ritenuta essere la casa della fata turchina, rappresentata nel Pinocchio di Comincini. Nonostante una certa somiglianza, si tratta però di una leggenda metropolitana. Infatti nello sceneggiato televisivo la casa della fata era un set costituito ad hoc.